ragazzi 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 oddio non potete capire l'entusiasmo l'emozione comunque ciao bentornati in un nuovo video troppo entusiasmo in corpo e perchè perchè non tornavo sul tubo da mesi settimane e sono troppo 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 contenta di essere ritornata qui finalmente ma soprattutto ritorno con un video haul non prendetemi per pazza per quello che sto per dire però ho fatto da anni sono stata da Essence non prendetemi per pazza ripeto è la prima volta che acquisto da Essence per quanto riguarda me poi ho sempre fatto regali per la mia migliore amica comunque da Essence e invece stavolta ho deciso di pensare a me di fare un regalino a me stessa e mi sento come quando i ragazzi assaggiano la patata per la prima volta e poi divendono patata dipendente io sono Essence dipendente oggi vi mostro gli acquisti che ho fatto appunto da Essence oddio in realtà mi porto questo video da gennaio però poi si è rotta la fotocamera eh sì la fotocamera facciamo corno prima che si rompa la fotocamera si è rotto il monitor stavo aspettando altri pacchi che si sono persi per fare lol quindi non l'ho potuto più fare quindi adesso ok la faccio ora altrimenti non smetto più ho comprato ho comprato questa tinta labbra di Essence l'avete vista su Instagram a proposito a proposito se non lo fate seguitemi subito su Instagram altrimenti non vi parlo più per tutto il resto della vita ho comprato questa tinta di Essence bellissima ha un odore fantastico e il colore è meraviglioso l'ho indossato in diversi video però adesso non mi ricordo quali wow wow ragazzi lo sniffo e sono innamorata di questa tinta bellissimissimissimissima la adoro e ho i prezzi perché sono apprezzata questo cos'è eccolo qui ta 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 la tinta è costata 2,89 euro oddio 2,89 euro mi è costata la tinta poi ta ta questa matita piccolissima piccolissima oddio dal colore è bellissimissimo questo fucsia madonna mia ma che cosa sei ma ragazzi mi venite a piangere perché sono soddisfazioni quando spendete soldi vostri senza dire grazie a nessuno solo a voi stessi oddio mi sento realizzata e la matita è costata 1,89 euro nel frattempo il gatto si serve da solo mi apre la porta e entra benvenuto Sammy e poi ho preso ta ta il mio primo mascara di Essence e dopo aver comprato ho comprato la prima volta il primo mascara il Big Lashes alla mia migliore amica e l'effetto era carino però non l'ho trovato ho preso questo qui che più o meno mi somiglia e poi ho comprato alla mia migliore amica per il suo compleanno il mascara Lash Princess ma ragazzi che cos'è però non l'ho visto su diletto non lo devo comprare anche la prossima volta e mi sa che lo devo comprare cioè lo compro sicuro solo che sabato scorso ero al centro con Francesco siamo andati da OVS e mancava grazie sfiga io ti ringrazio e quindi vediamo quando lo potrò comprare mentre questo è costato 3 euro e 59 finiti gli acquisti di Essence da su Amazon una collaborazione ho preso questi fantastici eyeliner ragazzi ma che cos'è quello che indosso il tratto è fantastico ve l'ho fatto vedere anche in un video mi pare e suona ragazzi si muove ma che cos'è fantastico da questa punta sottilissima ma veramente fantastica scrivente ottima veramente fantastico 5 stellette tutte a pieno e spero che non finiscano mai perché sono fantastici comunque lo store è sì di best ed è fantastico veramente 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 quindi fate fate un salto e fatene un altro fai una capovolta fai la differenza come cavolo fa no sto scherzando andate a vedere se siete interessati su Amazon comunque per acquistare questo eyeliner vi lascio sotto comunque il link di Amazon se me lo ricordo altrimenti niente vi ricordate che si chiama CD best 2,9 euro e 90 questo me lo ricordo e poi con la mia migliore amica al mercatino in offerta avete presente quelli stand che vendono le magliette a 3,50 6 euro poi i maggiori diventano pazzi perché ormai non è più periodo per vendere certe cose comunque è rimasto un solo capo rispetto agli altri e li svendono a 1 euro io ho preso questa che è il mio stile tutta così in pizzo tutta ricamata qui ma che cosa sei poi il colore in realtà c'era anche rosa erano le uniche due e la volevo prendere però ho avuto paura siccome vedete qui che è tutta lavorata in pizzo trasparente ho pensato io tette non è che ne abbia molto non ne ho giusto se magari la compro e si intravede il reggiseno non mi sa che faccio la devo rovinare perché si usa così con niente sotto poi la fortuna cosa ho voluto che quando l'ho provata a casa mi stava perfettamente alla perfezione se mi ricordo lascio qui la foto da qualche parte altrimenti niente credetemi sulla parola e ho detto vabbè la prossima volta se la trovo me la prendo anche rosa grazie sfiga seconda parte non l'ho trovata niente vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo video e niente ciao